Ora proveremo a comporre con questo oscilloscopio un segnale orizzontale con un segnale verticale per vedere che cosa otteniamo. Quando i due microfoni vengono raggiunti nello stesso modo dall'onda sonora abbiamo un segmento. Quando lo sfasamento è pi greco mezzi abbiamo una circonferenza. Proviamo allora a giocare separando i suoni che giungono ai due microfoni. Usiamo innanzitutto due La uguali. Proviamo ora a utilizzare un Sol e un Sol che sta un'ottava sopra. Sono le figure di Lissajus che già si possono vedere con altri esperimenti. Variamo ancora la frequenza utilizzando un Do e un Do che sta un'ottava sopra. Dovremmo ottenere la stessa forma. Ora proviamo a sostituire a questo Do un Do che sta un'ottava sopra rispetto a questo. La stessa forma si ripete. Proviamo ora a utilizzare un Do e questo che sta due ottave sopra. Grazie mille. Grazie a tutti